Fidati, ma verifica. È un principio che si applica ai tuoi misuratori. Tuttavia, verifiche o ricalibrazioni richiedono tempo e denaro. Anche eventuali accumuli di materiale nei tubi potrebbero essere un problema. Non si sa mai. Così non resta che rimuovere il misuratore e interrompere il processo. E di solito la verifica conferma che il misuratore sta ancora funzionando correttamente. Non sarebbe magnifico poter sapere con certezza quando è il momento di eseguire la manutenzione del misuratore ad effetto Coriolis. Ecco perché abbiamo introdotto la nuova Smart Meter Verification, un aggiornamento del software Smart Meter Verification esistente. Ora, grazie a funzionalità di rilevamento di accumulo di materiale del sensore, è possibile verificare le prestazioni e migliorare l'affidabilità della misura, senza rimuovere il misuratore dalla linea di processo. È inoltre possibile rilevare erosione, corrosione ed altri effetti del processo prima che questi influenzino i risultati della misura o della verifica. Gli intervalli di ricalibrazione vengono estesi, quindi documentati in un report formale riconosciuto da numerosi enti. Grazie alla funzione di programmazione, le verifiche vengono automatizzate e viene assicurata l'affidabilità della misura. È anche possibile guardare oltre il misuratore per mitigare problemi di processo quali l'installazione impropria, rilevare portate multifase e avvertire gli utenti se le caratteristiche della portata non rientrano nelle specifiche e richiedono attenzione. L'idea, allo stato puro, ha incontrato